Buongiorno a tutti ragazzi Qui Alessus e Naikou Manu se sto parlando a bassa voce ci sarà un motivo Quanto è suonato a questa tipa Qui Alessus e Naikou E benvenuti ad una nuova parte di Pokemon Verde Foglia Nella scorsa parte avevamo iniziato a sbattire Avevamo iniziato la Manu il signor Manuele è pregato di Star zitto e di lasciarmi continuare No no vieni di qua Aspetta portateli Ma li sto portando Finalmente Finalmente un po' di pace Dove ho? Nella scorsa parte Avevamo iniziato la torre E di Lavandonia E oggi ci accendiamo Ma finalmente raggiungerei Il punto più alto E a salvare Mister Fuse Dal malvagio Dal crudele Dal Lo odioso Tim Rocket Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm DAMMI IL SANGQUEEE Questa dovrebbe avere un launcher Ok come ho detto Però è sempre gara E strai 22 E io vorrei allenare il mio Guest al E18 E poco osservati c'è un miracolo se Non si fanno vivi i povi Visto che quando ce ne vi I sogni di loro non si fanno mai vivi Si fanno mai vivi Quando invece E non li vogliamo O non fanno altro che apparire a caso Adesso perchè sono malvagie E anzi la Game Freak è malvagia Adesso è costretto quindi A cambiare ripetutamente Pokémon durante le Le battaglie contro le Medium Che fanno Che hanno pure quelle frasi Inquietante Aja Puoi e l'arma Berghast là il livello 19 Troppo ho visto Allora di livello Sevelo Allora È un bellissimo Vensauro Basta Conoscete Brano turn Avete E rotto le E c'era quasi KV-Sauro Se volete Non ci sei riuscita Allora Pozione Super pozione Prossimo Che questo è È vero E avere Seven Ghastline Mamma di queste Non è la Hunter Non ci sei riuscita Non ci sei riuscita Non ci sei riuscita E' un risauro E' un risauro Io amo questo ma questi del minio si fanno o letteralmente odiare livello 32 aspettavo solo questo chi 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 cosa ragazzi e dopo con questa tipo 30 parti mi sa ovviamente se non v'è il lui venusaur continua il nostro viaggio un wrestler di livello 19 leccato paralizzato leccato leccato l'amore 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 L'ossellità. L'evio! L'esalzata di Desert Sos! L'esalzata di un nuovo spazio! L'esalzata di un nuovo avvino! L'esalza di un trasporto! L'esalzata di un grande ribo! L'esalzata di un nuovo avvino! Grazie! Grazie! Salgo! Salgo! Toccio in quel livello se vuoi venire un terror. Ha caduto qualcosa! Io non parlo. No! Una pokeball! Non si che cosi! Sigh! 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 Grazie a tutti Perché Ghastler si può sopprire soltanto la torre di Lavandonia? Bene, quando Ghastler salverò al livello 24 lo farò Lo salire da un altro livello 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 Lo spettro della torre di Lavandonia Allora ragazzi La storia? Non ti seri Marowak No ragazzi la storia di quei Questo sport è semplice E' accaduto più o meno Non so neanche io quanto ho tempo qui Mi mando gli eventi del gioco e' caduto Ma vabbè Dunque Come ho già detto con questa torre C'è il Team Rocket Il perfido, il malvagio, il crudele E' il Team Rocket E' su aveva Su Tra le sue tante mele fatte Aveva appunto ucciso E' su una povera madre che stava cercando di difendere il bambino Che essi voleva Fanno catturare Ovvero T'hanno ucciso Di questa Marowak Si E' possibile Cedere il Pokemon Non chiedetemi di te Perché Ma è possibile E il Pokemon World Defiant ce lo dimostra Dunque Mr.Fuji Sono questo spettro Vaga Sono questo torre per l'eternità Senza trovare pace Senza Questo bambino E' stato catturato Dall'Erae Catturato Dall'Erae Nell'Erae Quella Nell'Erae 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 E non chiede Ok Sconfuggendo Qua L'aspetto Non mi chiede Ma D'Ecuban Adesso L'arma è tranquilla E' partito Per l'art di là Non chiedete Ok Comunque Ragazzi Il Team Ok Ci sono parole Su questo O piano Perché Dunque Prima raccuta Cosa c'è Perché Sei qui Che Ma Che Che Grazie.